Movimento 5 Stelle, le associazioni di categoria dicono no all'opertura di nuovi centri commerciali anche all'interno di aree industriali? Sì, è stata approvata nello scorso Consiglio regionale una legge che apre questa nuova possibilità all'interno delle aree industriali e questa legge sembrerebbe orientata in particolar modo all'area industriale di Vasto, quella di Punta Penna. Quello che noi vogliamo scongiurare è l'apertura di centri commerciali in zone che sono oramai vocate alla riserva naturale e ad aspetti turistici e ambientali e non vogliamo che si desertifichi nuovamente un altro centro storico, in questo caso quello di Vasto. Per la battaglia che si sta facendo nel nostro territorio, perché sapete bene che la regione Abruzzo è una della regione, diciamo che la regione con il maggior numero di metri quadri di iniziamenti commerciali. In un momento poi dove le stesse strutture di centri commerciali stanno avendo problemi, abbiamo visto poco tempo fa problematiche del mercatone 1, adesso viviamo delle vendite in zone di centri commerciali, proprio perché siamo arrivati alla saturazione, quindi non c'è più spazio. Noi che cosa facciamo? Promuoviamo ancora l'apertura dei centri commerciali, anziché ciò che noi stiamo dicendo da tempo, quello del promuovere i centri storici, perché se non ripartiamo dai centri storici, dalle piccole botteghe, dalle piccole attività, non ci sarà futuro. Commercio da sempre è contraria a nuovi insediamenti commerciali, perché non è di questo che la nostra regione e la zona di Vasto ha bisogno. Dobbiamo combattere la desertificazione dei centri storici. Ho letto la delibera e ho visto che anche altri consiglieri si sono astenuti dal voto e ritengo che ci sia da fare un'altra battaglia, come stiamo facendo per la costruzione di altri centri commerciali e se necessario saremo vicini a loro anche in questa. Quello che noi chiediamo al Presidente di Regione Abruzzo è di non promulgare questa legge perché è dannosa per il territorio abruzzese, perché ha, secondo noi, dei profili di illegittimità. Se dovesse promulgare questa legge, il Movimento 5 Stelle segnalerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la legge affinché venga impugnata.